Ci hai fatto caso anche tu. Viviamo la maggior parte della nostra vita mettendoci a confronto con gli altri. Prima c'è il confronto con i voti a scuola, poi con l'incontro in banca, poi con la dimensione della casa, poi con il numero di rughe, poi con il numero di capelli bianchi o non bianchi e la categoria va avanti all'infinito. Così come le persone a cui possiamo paragonarci. Quando imbocchiamo quella strada non arriveremo mai alla fine. Non c'è via d'uscita. Qual è il problema? Mi chiedi? Più di uno. Credimi. Prima di tutto i paragoni che facciamo sono di solito per difetto. In altre parole tendiamo sempre a paragonare il peggio di noi a quello che riteniamo sia il meglio degli altri. Il confronto continuo inoltre drena un sacco della nostra energia e del nostro tempo senza contare che non aggiunge alcun valore o significato alle nostre vite. Anzi ce ne allontana e basta. Il confronto è un buco nero senza fine e soprattutto senza via d'uscita. Non importa che cosa di buono succederà nella tua vita, ci sarà sempre qualcuno o qualcosa che sta meglio di te. Ma soprattutto paragonarci continuamente a qualcun altro sposta il nostro focus sulla persona sbagliata e ogni singola goccia di attenzione e di energia che spendiamo a rimuginare sui sogni e sui progetti altrui è attenzione ed energia tolta ai nostri. Nel suo famoso libro, Il monaco che vendete la sua Ferrari, Robin Sharma propone una pratica da fare ogni sera prima di andare a dormire. Perché no? Con un bicchiere di vino rosso... Ceci! O una risana al zanzero, ognuno ai suoi gusti. La pratica prende il nome di rituale della riflessione introspettiva. Ma non preoccuparti, è molto 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 più divertente di quanto possa suonare. E no, non è necessario né che diventi un monaco, né che vendi la tua Ferrari, o la tua Prius, o la tua bici. La pratica consiste in questo. Ogni sera, dopo una lunga giornata, fermati a riflettere sulle cose che hai fatto e sui pensieri che ricordi di aver avuto nel corso dell'intero giorno. Ora prendi un foglio e dividilo in due parti. Nella prima, metti quali tra le azioni che hai fatto e i pensieri che hai avuto sono stati positivi e costruttivi. Nella seconda, quali tra le tue azioni e i tuoi pensieri sono piuttosto discutibili. Consideralo una sorta di inventario della tua giornata. La seconda lista è naturalmente la più preziosa, in quanto ti consente di capire immediatamente su che cosa devi lavorare il giorno successivo, per migliorarti come persona. Senza che diventi naturalmente uno stress, mi raccomando. Sono piccoli aggiustamenti che puoi cominciare ad applicare domani sulla base di come è andata oggi. Ora, se pensi che ti lasci andare così, ti sbagli di grosso. No, 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 no. Prima di chiudere il video, condividi qui, nello spazio sotto i commenti, una cosa che di sicuro sai puoi migliorare già da oggi rispetto a quello che hai fatto ieri. Una sola. Non tirarti indietro, perché ricorda che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su cecilia.sardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Mua!